Lunedì 20 marzo, buongiorno da Giuseppe Recca. Indagine della polizia in corso a seguito del ritrovamento avvenuto ieri mattina sulla spiaggia di San Marco a Sciacca di due involucri contenenti sostanze stupefacenti. A denunciare l'accaduto i volontari del WWF che si sono imbattuti nei due pacchetti di ashesci mentre stavano effettuando una pulizia dell'arenile. Si ipotizza che gli involucri possono essere stati trascinati sulla battigio dalle correnti o che possano avere fatto parte di un carico giunto sulla terraferma in uno dei numerosi sbarchi fantasma di migranti. Oggi la seduta dell'assemblea dell'azienda idrica Comuni Agrigentini, convocata per rinnovare il consiglio di amministrazione nelle scorse ore, ennesimo duro attacco della consulta degli utenti che sottolinea come da parte dei sindaci ci sia l'assenza di trasparenza nelle procedure di selezione dei consiglieri e di logiche spartitorie degne, scrive la consulta della peggior prima repubblica. La consulta ha chiesto l'intervento del prefetto e dell'autorità anticorruzione. Avvertimento dal direttore del parco archeologico di Siracusa Antonello Mamo, culminato con il taglio di due gomme della propria auto parcheggiata vicino l'abitazione. La polizia sta scandagliando ogni aspetto della vita privata e professionale del direttore del parco al centro da alcune settimane di polemiche legate all'utilizzo del teatro greco di Siracusa. L'ASPE di Agrigento ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento sismico delle strutture sanitarie. Lo scrive oggi la Sicilia. Si tratta di interventi che saranno realizzati con i fondi del PNRR. Gestire le gare d'appalto sarà in Vitalia. Per l'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca spesa prevista 8.240.000 euro, mentre per il fratelli Parla Piano di Ribera 8.484.000 euro, con un finanziamento integrativo che è stato richiesto dall'ASPE. Incredibile episodio a Palermo. Alcuni ragazzini sono entrati dalle finestre dell'istituto scolastico Paolo Borsellino ed hanno cercato di portare via le porte delle classi per fare il falò per la festa di San Giuseppe. Le cosiddette tradizionali vampe. Il piano è fallito grazie all'intervento del custode che ha fatto fuggire i vandali. La scuola ha presentato denuncia contro i gnoti. Calcio eccellenza. Lo Sciacca è tornato al successo battendo 3-0 la Leonfortese. Netto il risultato con cui Coco e compagni hanno avuto la meglio sugli avversari. Ha aperto la marcatura King al 31esimo, nel secondo tempo a doppietta di mistretta. Nelle altre partite da segnalare che Lagragas, vincendo all'ultimo secondo il proprio confronto, ha raggiunto in vetta l'Enna costretto al pari a Casteldaccia. Porfavar ha battuto in casa dalla Mazzarese. Bolle club Sciacca sul Velluto, al palo unità di Castelvetrano, nella quindicesima giornata del campionato di Serie C. Il sestetto Sacenze si è imposto sull'erice Intello per 3-0 parziali 25-16, 25-21, 25-22. Sconfitta esterna invece in Serie D per la squadra femminile dello Sciacca, battuta a Bagheria per 3-1. Due medaglie d'oro per gli atleti della Ippon Lentini di Sciacca al campionato federale italiano riservato a rappresentative regionali. Hanno conquistato il successo Andrea Danna e Irene Marturano, mentre Emma Colletti si è classificata seconda. Con questi risultati la Sicilia ha ottenuto il terzo posto nel medagliere per regioni nella categoria over 18. Nella rappresentativa regionale, guidata da un comitato tecnico di cui fa parte Marco Lentini, anche altri due atleti della Ippon, Giuseppe Gulino e Paolo Propizio. È tutto per questa mattina, grazie e restate su Corriere di Sciacca.it per le altre notizie. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp. Grazie a tutti.